Buonasera signori, oggi vi vedremo un Fatterful Way, Tornado, Tag, Street Fight Match, tra Jeff Jarrett, Randy Orton, Matt Hardy e Chris Benoit. Signori, ecco a voi i loro nostri campioni. Larry and Jasmine, Jeff Jarrett! Larry and Jasmine, Chris Benoit! Larry and Jasmine, Matt Hardy! 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 Larry and Johnny, Matt Hardy! Larry and Jasmine, Matt Hardy! Larry and Jasmine, Matt Hardy! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, non puoi la tua čia fare Oh, no, 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 no. Che bello? No, no, no. Che cosa? No, 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 no. One, two, three. No, 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 no.